Padre Matteo passa il decreto, porterà i libri in tribunale, il nodo della RAI continua ad aggrovigliarsi, se il decreto che scade il 29 giugno, cioè domani, non verrà reiterato dal governo, porteremo i libri contabili in tribunale. Non è certamente bello, sostiene Fedele, un paloniere. C'è poi questa polemica, vi dice, possiamo parlare di CSA. Fedele, un paloniere. Fedele, un paloniere. Grazie. 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 Grazie.